La mattina do sempre un'occhiata alla posta. Oggi ho trovato l'estratto conto della banca e ho scoperto che ovviamente non ho interessi, ma in compenso ho un sacco di spese. Perché? Perché il mio conto mi costa tanto e rende poco? Perché non cambio banca? Se c'è Fineco, che mi dà il 5% di interessi, il banco matta tutti i servizi via internet e via telefonino senza spese. Perché non cambio? Se posso. Fineco. The New Bank Un giorno come un altro esco di casa, accompagno Matteo a scuola e poi vado a fare un pagamento in banca. Arrivo e faccio 20 minuti di coda. Perché? Perché devo perdere mezz'ora per un bonifico? Perché non cambio banca se c'è Fineco, che anche col telefonino mi dà l'estratto conto, i bonifici, le ricariche e in più posso investire. Perché non cambio se posso? Fineco. The New Bank. Quando chiamo in banca per investire, devo sempre decidere senza avere un quadro aggiornato. Così va a finire che compro alto, vendo basso o lascio perdere. Perché? Perché devo dipendere dagli altri se da solo faccio meglio e più in fretta? Perché non cambio banca se c'è Fineco, che mi dà in tempo reale tutte le informazioni che mi servono e posso investire in pochi secondi a commissioni bassissime. Perché non cambio se posso? Fineco. The New Bank. Oggi ho voglia di investire. Vado in banca e mi rifilano, senza neanche ascoltarmi, il solito fondo di investimento che va bene per tutti. Perché? Perché non cercano mai di capire cosa serve a me? Perché non cambio banca se c'è Fineco, che mi dà un Financial Planner che personalizza i miei investimenti sulla base della mia situazione finanziaria. Lo trovo su internet e lo incontro dove voglio. Perché non cambio se posso? Fineco. The New Bank. Perché non cambio banca se c'è Fineco, che mi dà il 5% di interessi. Il banco mate tutti i servizi, via internet e via telefonino, senza spese. Perché non cambio se posso? Fineco. The New Bank. Perché non cambio banca se c'è Fineco, che mi dà in tempo reale tutte le informazioni che mi servono e posso investire in pochi secondi a commissioni bassissime. Perché non cambio se posso? Fineco. The New Bank.